Ciao a tutti e bentornati nella trasmissione di oggi. L'ultima volta ci siamo lasciati con delle letture del libro del Capitale proprio per vedere se è possibile una società diversa da quella attuale basata sulla legge del valore. Partiamo da quei punti. Dal libro primo del Capitale diceva Marx, immaginiamoci una società di uomini liberi che lavorino con mezzi di produzione posseduti in comune e spendano coscientemente le loro molteplici forze lavoro individuali come un'unica forza lavoro sociale. Il prodotto complessivo dell'associazione è un prodotto sociale. Una parte di esso serve nuovamente come mezzo di produzione e rimane sociale. Per esempio i mezzi di produzione che vengono logorati, consumati eccetera, io li devo rimpiazzare e rimangono sociali. Ma l'altra parte viene consumata come mezzo di sussistenza dai membri della società. Dunque deve essere ripartita fra di loro. Come deve essere ripartita questa produzione collettiva? Questa ripartizione, quindi lui continua, dice, varierà a seconda dei vari generi dell'organismo sociale di produzione e dai corrispondenti livello di sviluppo storico dei produttori. Quindi più si produce e più abbiamo, produciamo di più oggi che nel Medioevo o cent'anni fa. Solo, dice, quel parallelismo, cioè facciamo un parallelismo con la società attuale, con la società di merci, supponiamo che la partecipazione di ogni produttore e mezzi di sussistenza sia determinata dal suo tempo di lavoro. Quindi, per realizzare quel piano di produzione in armonia con la specie e l'ambiente, c'è bisogno di una certa quantità di tempo di lavoro. E prosegue il tempo di lavoro, quindi recita in questa ipotesi una doppia parte. La sua distribuzione, secondo un piano sociale, regola la giusta proporzione tra le diverse funzioni del lavoro e i diversi bisogni. Dall'altra parte, il tempo di lavoro serve contemporaneamente da misura della partecipazione individuale del produttore al lavoro comune e perciò anche alla parte individualmente consumabile dal prodotto comune. Quindi, in questo caso, le relazioni sociali fra gli uomini e i loro lavori e i prodotti del lavoro all'uomo rimangono quindi una semplicità cristallina nella sua produzione e nella distribuzione. E riprende questo concetto anche sulla critica al programma di Gota, altro scritto di Marx che dice, per esempio, e quindi riprende i punti, la giornata di lavoro sociale consta, cioè fatta, della somma di ore di lavoro individuale. Il tempo di lavoro individuale del singolo produttore è la parte della giornata di lavoro sociale conferita a lui, cioè che deve suddivisa. E quindi tu devi fare tot e la sua partecipazione alla giornata di lavoro sociale. Egli riceve, quindi per partecipare a questa produzione sociale, dalla società uno scontrino da cui risulta che gli ha prestato tanto lavoro, dopo la detrazione del suo lavoro per i fondi comuni, e con questo scontrino gli ritira dal fondo sociale tanti mezzi di consumo, quanto equivale a un lavoro corrispondente. La stessa quantità di lavoro che gli ha dato alla società in una forma lo riceve un'altra. Bene, io mi sono, anche per così un po' diversificare la cosa, mi sono divertito un po' a dire, se ci fosse un piano sociale di produzione, come potremmo, quante ore di lavoro potremmo lavorare, se dato per scontato, dato non concesso, che la produzione oggi, cioè di quella che siamo arrivati a oggi, il 4 febbraio del 2019, ci va bene, cioè la quantità di cose prodotte, facciamo zero il punto oggi. Allora sono andato sul, ho dovuto raccogliere alcuni dati, quindi sono andato su questo sito che la regia prego di mettere in onda, dove c'è un indice statistico, demografico e struttura della popolazione in Italia. Allora la popolazione in Italia nel 2018 era 60 milioni, 60 milioni, 483 mila 973 persone, individui. Queste persone però dobbiamo dire che in base alla legislazione italiana fino ai 15 anni non si lavora, quindi leviamo 8 milioni e 80 mila persone, sopra i 65 anni, dovrebbe essere in pensione, quindi in abili, sono altri 13 milioni 644 mila. Totale quindi dai 15 ai 64 anni ci sono 38 milioni 759 persone capaci, abili al lavoro. Di queste 38 milioni 759 mila quanti lavorano in Italia? Bene, sui dati che vi ho dato prima, li trovate tranquillamente, in Italia lavorano 25 milioni e 108 mila persone. Quindi 25 milioni e 108 mila persone soddisfano la produzione, cioè creano una produzione sufficiente per poter vivere per poter vivere, come viviamo oggi, 60 milioni e 483 mila. Quindi 25 milioni, scusate il termine non è giusto, però è così, mantengono 60 milioni di persone. Quindi la produttività è molto alta del lavoro. Allora, se noi dovessimo pianificare per tutti questi 38 milioni di persone, avendo la produzione che è adesso, quante ore di lavoro dovrei ridurre per il lavoro che è attuale, perché tutti questi 38 milioni siano occupati? Bene, ho trovato un libro, il libro di Giorgio Lunghini. Giorgio Lunghini è un professore, un docente dell'Università di Bocconi, è stato docente dell'Università di Studi di Milano e di Pavia. Ha tenuto inoltre, dal 1975 al 2010, presso l'Università commerciale Luigi Bocconi, il corso progredito Economia Politica. L'edizione del Dizionario di Economia Politica sono ben 16 volumi pubblicati dall'82 al 1982 e 1990. Allora, il ragionamento è stato questo. Lui ha fatto un modello che rispecchia questo, quanto si dovrebbe ridurre l'orario di lavoro. E attenzione a cosa ne vengono fuori. Allora, se prendessimo per buono i dati di Longhini e presupponessimo una dinamica lineare, però poi non è sempre così, avremmo che, secondo i suoi dati, che un ottavo di orario di lavoro in meno porta a un aumento occupazionale di un ventiseiesimo di occupati. Allora, se noi abbiamo 25 milioni, ho semplificato, di persone che lavorano 40 ore, se riduciamo di un ottavo, cioè di 5 ore, quindi portiamo a 35 ore l'orario di lavoro, vengono assunti, cioè sarebbero occupati 925 mila. Riduciamo ancora un ottavo e aumentiamo di un ventisettesimo l'occupazione. E avanti così, quindi 35, 30 ore, 26 ore, 28, 20, quindi passiamo da 26, 27, 28, 29, 30. Beh, insomma, per arrivare a 38 milioni, 678 mila occupati, si dovrebbe lavorare 8 ore la settimana. Avete sentito bene, 8 ore la settimana, quindi quasi un'ora al giorno, vi rendete conto di questo? E noi qui siamo, si litiga questa società borghese per ricavare il profitto da chi lavora, siamo qui a litigare sul reddito di cittadinanza, perché dobbiamo mantenere, pagare, quindi lavorare chi lavora, mantenere delle persone che non partecipano alla produzione sociale, perché altrimenti le imprese non avrebbero il loro profitto. E ho tenuto in considerazione 38 milioni di persone, che all'interno di questi 38 milioni sono state un po' abbondante, ma dovremmo levare chi è malato, chi è inabili al lavoro, eccetera. Anche se levassimo tutti questi, diventassero 10 ore di lavoro alla settimana, vi rendete conto quanta differenza c'è tra quanto lavoriamo oggi, 40 ore, e sappiamo benissimo che all'interno delle aziende ci chiedono sempre più lavoro, quanta produzione in più diamo e quanto plusvalore creiamo. Poi mi sono divertito a fare un altro esempio. Per quanto riguarda, a proposito della riduzione dell'orario di lavoro, non sono l'unico che ne parla, ma ne ha parlato anche il Sole 24 Ore, il 17 gennaio del 2019, presentando un lavoro, di un video di Casaleggio Associati. Il titolo di questo video è 2054, al lavoro l'1% del tempo. Il video ripercorre la storia dell'umanità, dalle popolazioni di cacciatori e raccoglitori alla rivoluzione industriale, per giungere infine agli ultimi decenni in cui il processo evolutivo subisce un'accelerazione vertiginosa. Il video ha un taglio positivista. Secondo loro la storia, secondo Casaleggio Associati, quindi Movimento 5 Stelle, diviene storia dal progresso. Noi sappiamo comunque che non è il progresso di per sé, sono proprio le lotte sociali che hanno fatto cambiare il sistema e hanno fatto fare un salto all'umanità. Nei termini miglioramento continuo delle condizioni degli uomini, il quale passa dall'introduzione della scuola all'obbligo, delle pensioni, del diritto alle ferie e ai giorni festivi. E dato che le nuove tecnologie aumentano, la produttività del lavoro ed è eliminazione della forza lavoro, il prossimo step di questo processo sarà il reddito di base incondizionato. Cioè ti pagano, non è giusto dire per non fare niente, perché non è vero, ti tengono, perché non hai mezzi di produzione, per cui sei costretto alla inattività. Quindi sei costretto a non partecipare a questo piano sociale di produzione. Però, continuiamo a questo punto, sordino domanda. Come fa il capitalismo ad estrarre il plusvalore da retribuire nella società, se sfrutta al massimo un numero sempre minore di operai? Guai a quella società, invece di sfruttare i propri schiavi, è costretta a mantenerli, diceva Marx. Non solo le macchine sostituiscono i lavoratori, ma impongono sempre nuovi modelli di produzione più razionali, automatici, veloci. Le fabbriche adottano bracci robotici, programmabili, la logistica si automatizza così come il trasporto delle merci. Quindi, vedete, se ragioniamo su quel sistema, anche su quel sistema di casaleggio, sempre meno persone lavoreranno e anche se lavoreranno nel tempo meno, cioè un per cento del tempo dedicato alla produzione, vorrà dire che questi manterranno una massa di persone a non fare niente, quindi il reddito incondizionato. Allora, io mi sono domandato, quanto reddito, quanta ricchezza in termini monetari viene creata da questi 23 milioni di persone che lavorano. Allora, sono andato, ho fatto un po' alla ricerca e ho visto che in un articolo della Repubblica del 4 marzo 2018, che parla del PIL pro capite e dice che in Italia, data una media UE uguale a 100, il risultato delle proporzioni consegna all'Italia un punteggio frutto di un prodotto interloordo pari a 1680 miliardi di euro. Quindi, ogni anno noi creiamo 1680 miliardi di euro, che suddivisi tra i 60 milioni di abitanti generano un dato nazionale parli a 27.700 euro, cioè quindi 60 milioni di persone creano una ricchezza ogni anno di 27.700 euro. Però, attenzione, chi produce in realtà non sono i 60 milioni di persone, perché abbiamo detto prima che sono 25 milioni di persone che lavorano tra lavoratori dipendenti, autonomi, tra lavori in industria e nei servizi. Quindi 25 milioni, compresi i call center che non producono niente, i promoter che non producono niente, i procacciatori finanziari, quelli che vengono a portarti i volani de pliande, se vuoi investire in azioni, eccetera, che quindi non producono niente per l'umanità, perché l'umanità non vive di quelle cose, non vive del denaro che è un'invenzione sociale. Quindi, ma diamo per assodato che, ancora come prima, la riduzione del tempo di lavoro, che abbiamo visto sono 8 ore settimanali, questi 1.680 miliardi di euro dovrebbero essere suddivise fra i 25 milioni che lavorano e fanno sì che sia, se li divido per 65, risultano 27.000 euro pro capite. Quindi, la ricchezza, il PIL annuale prodotto da 25 milioni di persone è equivalente a 67.000 euro pro capite. Un chilogrammo di pane a Milano costa circa 3 euro e quindi diviso 67.000 euro diviso 3 vengono fuori circa 30 tonnellate di pane si possono comprare. Perciò, se partiamo dal presupposto, come fanno i borghesi, che tutti gli occupati contribuiscono al prodotto totale, quindi tutti i 25, ognuno tra gli italiani che lavorano in qualche modo, svolgendo il proprio compito nella divisione sociale del lavoro, produce 263 grammi, cioè 0,263 chilogrammi di pane in un minuto, giusto quel che mangia un adulto in due pasti, nel senso che 100 grammi più o meno, cioè un panino, 100 grammi pesa 100 grammi, quindi in un minuto vengono creati la quantità di mangiare per due pasti, la quantità di pane. Abbiamo detto che i produttivi sono meno della metà rispetto al numero totale degli occupati, cioè 25 milioni, quindi la nostra unità di misura pane come equivalente generale ci indica in realtà che in questa società capitalistica iperproduttiva si è giunti a produrre fisicamente la sua razione ognuno che lo ha in mezzo minuto, l'azione di un pasto in mezzo minuto. E se teniamo conto che anche nell'industria sono presenti attività parassitarie per almeno il 50% degli effettivi, l'industria americana è fatta per 75 di servizi interni e se andate sull'Istat ci sono anche i servizi, c'è proprio una sproporzione tra la quantità di servizi date all'impresa e effettivamente chi produce manualmente, ecco che si arriva tranquillamente al di sotto del quarto di minuto. In questo conteggio che è grossolano ma abbastanza realistico facciamo rientrare anche le mezze classi le quali con il loro lavoro riproducono semplicemente se stesse e derivano il sovrappiù che risparmiano e investono da una ripartizione sociale del plus valore proveniente dal proletariato. Allora se vogliamo fare la prova del 9, giusta la legge del valore da cui non si scappa, a cui devono inchiodarsi persino i borghesi che a parole lo negano, osserviamo che il nostro pane minuto equivale grossomodo a 0,51 euro e che il costo orario tipo delle attività industriali è calcolato sulla base media di 34 euro l'ora, cioè la stessa cifra 34 euro fratto 60 uguale a 0,56 euro. Sarà un caso ma in qualunque modo si calcola dai borghesi il costo orario base, esso corrisponde esattamente al risultato che Marx mette a fondamento del suo sistema. La somma di tutte le merci prodotte in un ciclo, quindi il PIL, è rapportata ad unica merce globale, così come la somma di prezzi di tutte le merci singole, è rapportabile al valore globale prodotto nello stesso ciclo. Questo del costo medio orario io l'ho trovato, non me lo sono scritto, ma comunque 34 euro sembreranno molte, ma 34 euro medie l'ora è un ricavato che viene calcolato sempre dall'Istat e lo potete trovare nel sito dell'Istat quando scrivete costo orario medio e lì vedete che il costo orario medio non sono le 6, le 7, le 11 euro che vi danno nette, sono detratte dai vari costi e le varie trattenute che lo Stato fa e quindi è plus valore che viene stornato direttamente allo Stato che fa l'esattore per conto delle banche per pagare i debiti alle banche. Quindi ritornando al tema di questa sera, cioè tempo di lavoro o tempo di vita, abbiamo visto che attraverso un piano sociale di produzione, se vogliamo che tutti partecipino alla produzione, quindi dovremmo levare la proprietà privata dei mezzi di produzione, fra cui il primo mezzo mezzo di produzione e comunque i grossi gruppi attuali come Eni, come Fincantieri eccetera sono nati con i soldi della collettività, una volta appena finita la guerra c'è la Liri che era ancora prima durante il fascismo, cioè le grandi opere si possono costruire solo attraverso una grande quantità di capitale, se ne era fatto carico lo Stato attraverso la tassazione di tutta la collettività e poi queste sono state, una volta finito il loro ruolo sociale sono state privatizzate, quindi sono della collettività, queste forze di produzione sono della collettività, quindi se tutti partecipassero in base, come diceva Marco, attraverso un piano di produzione basterebbe lavorare un'ora di lavoro alla settimana per procurarci fisicamente quello che ci serve per lavoro e se lavorassimo solo un'ora alla settimana potremmo tutti fare i politici, potremmo tutti fare gli economisti, dopo aver risolto il nostro tempo socialmente obbligatorio e utile, tutti potremmo filosofeggiare, tutti potremmo dedicarsi alle arti, quindi tutti i politici di adesso potrebbero sparire, perché tutti potremmo fare i politici e i chiacchieroni, solo che i chiacchieroni oggi dicono beh tu continua a lavorare, sai fare il politico è molto dura, sei sempre impegnato, beh tranquillo siamo sempre impegnati, diminuzione dell'ora di lavoro, lavora un po' anche tu, le scarpe che porti inizia a farle, il vestito che indossi inizia a farlo tu, la macchina che adoperi inizia a farlo anche tu, quindi un po' lavoro a te, un po' lavoro a me, quindi imparo anch'io a fare il politico se ce ne fosse bisogno, imparo io a fare il sindacalista se ce ne fosse bisogno, però voglio partecipare socialmente e decidere assieme quanto produrre, come produrlo e socialmente come far sì che ci sia questa armonia, quindi l'ambiente che oggi viene sempre più nominato, sempre più appare sulle pagine dei giornali, ma semplicemente perché qualcuno poi ci fa business, per armonia, per vivere la specie, faccio un esempio, se io dovessimo produrre un prodotto e quindi socialmente in assemblea decidiamo se produrlo o meno, uno dei fondamenti sarà ma se produco questa cosa qua inquinerà, se inquina chi dovrà disinquinare, è proprio utile, è proprio indispensabile, non c'è modo per farlo in un'altra maniera che non sia inquinante e che non sperperi la ricchezza che ci dà la natura e l'ambiente, ecco queste sono le domande, quindi c'è la possibilità di una società diversa, vi ho mostrato anche con i dati, vero sono grossolani i dati, però prima di tutto io non sono uno statista o altre cose, però le potete ricavare anche voi con i link che vi ho dati e fate questo esercizio anche voi e vi comincerete come sono convinto io che la società può essere migliore, diversa, però deve essere messa sotto altri punti. Spero non avervi annoiato con tanti numeri e il tempo concesso mi si è esaurito, vi saluto e ci vediamo fra 15 giorni. Ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!